Alla vigilia di una nuova giornata nei campionati di eccellenza e di promozione continua ad impanzare il mercato nei dilettanti Irpini. Il città di Avellino fa spesa in casa Bellinum. Hanno firmato per il club di mister Checco Sgambati l'esterno classe 97 Bruno Del Sorbo e Mario Tirri. Del Sorbo è reduce da due annate strepitose, la prima a Montemiletto e la seconda in Rival Sabato, mentre Tirri è un assoluto valore aggiunto al centrocampo bianco-verde. Il calciatore di Mercogliano porterà qualità ma soprattutto quantità alla mediana avellinese. Le operazioni sono state chiuse ottimamente dal DS Marco Furino che dopo aver portato alla corte del tecnico baianese calciatore del calibro di Cacciottolo e di Emanuele Danna sta svolgendo un lavoro importante per l'obiettivo salvezza. La diaspora in casa Bellinum iniziata con gli addi di Zerillo e dei nuovi tesserati del città di Avellino continua. Marco Ambrosino ritorna al Gesualdo di Facchino che abbraccia anche il forte centrale grottese Danilo Flammia. In casa tripaldese non solo cessioni c'è chi fa prevalere il cuore ed è il caso dei difensori montoresi Luca Trifone per Francesco Liva che hanno deciso di rimanere in bianco-verde portando avanti un progetto iniziato la scorsa estate. Rimarrà alla Bellinum anche Gianmario Modesto. Guiderà la squadra di bianco-verde dopo le dimissioni di Criciriello il tecnico della Junior S Smedile. Dopo l'ingaggio di Pignetti il San Martino Valle Caudina del presidente Pisaniello chiude la seconda trattativa in entrata. Arrivi in bianco-russo il giovane attaccante Danilo Dalia classe 2001 proveniente dalla Viribus Uniti squadra che milita nel girone C di promozione. Dalia nativo di San Giorgio a Cremano nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Palmese, Portici e di San Giorgio.